Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile video. Di cosa si parla oggi in questo incredibile pillole del mercoledì siamo tornati baby? Granate! In particolare stiamo parlando della flashbang della Tajin, ovviamente. Due secondi di delay, un incredibile formato da granata stordente e molteplici usi. Sigla che poi ne parliamo. Una cosa di cui abbiamo parlato poco sul canale sono le granate. Principalmente perché sia io che War le utilizziamo abbastanza spesso ma ci siamo poi sempre adagiati sugli allori utilizzando le Okatsu. Che non è la scelta migliore. Sicuramente la scelta più economica ma non la più efficace. Ecco che ci viene il nostro soccorso come prima delle tre opzioni incredibili di cui vi parlerò questa settimana, la flashbang della Tajin. Il modello è l'FBG6, ovviamente modello flashbang con 2.0 secondi da quando voi avete ovviamente rimosso l'anello della sicura, avete mollato la leva della sicura e la granata va a esplodere appunto in due secondi. Cosa significa questa cosa? Beh che sicuramente non vi consiglierei di attivare la granata e tirarla per colpire qualcuno dall'altra parte del campo. Questa infatti è una granata che non si potrebbe neanche chiamare granata perché è una flashbang però passatemi il termine che va utilizzata per l'appunto per ripulire le stanze o per scioccare il nemico all'interno della stanza ed entrare con il pene turgido. Infatti l'utilizzo di questi piccoli oggettini è identico a quello che si fa nei film e che potreste aver visto in 250 tipi di prodotti mediatici. Ovvero state di fianco alla porta, attivate la granata e la tirate dentro. Due secondi questa va a saltare nel momento in cui va a detonare per l'appunto voi vi fiondate dentro la stanza ed eliminate i cattivoni. Questo modello in particolare non ha i pallini all'interno perché per l'appunto è una flashbang quindi non ha l'obiettivo di eliminare gli altri giocatori ma torneremo su questo punto a breve. Ma semplicemente di andarli a stordire per permettervi un'entrata più importante e sfruttando quindi il momentum siete più avvantaggiati rispetto a chi è all'interno ed è completamente rintronato dall'esplosione. Infatti questo affarino quando va a detonare produce un rumore che è di 120 decibel. È abbastanza destabilizzante. Ve la lascio in questa situazione. È abbastanza destabilizzante. Ha il funzionamento tipico di una granata quindi sostanzialmente abbiamo la leva della sicura, abbiamo l'anello della sicura e poi dopo il corpo con all'interno l'esplosivo sostanzialmente. Se noi la volessimo andare a utilizzare ci basta tenere con una mano ferma la leva della sicura, rimuovere l'anello della sicura e nel momento in quale noi la andiamo a tirare mollando appunto la leva della sicura per l'appunto questa va a detonare in due secondi. Due secondi è tra l'altro il tempo perfetto che vi serve per tirare la granata, rimbracciare il fucile ed essere pronti ad entrare nella stanza. Chiaro è che dovete essere belli carichi, bisogna entrare incazzati. Avevo detto che saremmo tornati sul fatto che non ha i pallini all'interno. Molti campi non prevedono che le granate, tutti i tipi di granate quindi dalle Okatsu alle Avatar a queste qua, Usegetta eccetera eccetera eccetera, debbano per forza colpirvi con i pallini che hanno all'interno. Infatti molte volte basta semplicemente che una granata esploda all'interno di una stanza per far sì che tutti quelli che sono all'interno, a volte un massimo di tre operatori, a volte è diverso, ci rimangano secchi. Perché ovviamente è molto randomico sentire un pallino che vi arriva addosso subito dopo una grossa esplosione. Infatti in molti casi noi quando andiamo a giocare in CQB queste le utilizziamo come granate normali, ovvero togliamo la spoletta, la tiriamo dentro una stanza e se all'interno di quella stanza c'era qualcuno, ciao mare. Quindi sostanzialmente dipende dalle regole che ci sono del campo. Questo le rende molto efficaci perché due secondi di esplosione vi permettono proprio di tirarla dentro e questa esplode quasi a impatto, il che è molto molto figo e molto molto utile. Perché non dovete sostanzialmente tenerla in mano, far andare la spoletta e cucinare le granate, cosa che vi sconsiglio assolutamente di fare soprattutto con questi modelli. Detto ciò, questo è quanto, è una granata sicuramente molto interessante, ha anche un design come corpo generale della granata molto figo e molto carina anche da mettere sul tattico, è molto molto leggera quindi non vi va ad appesantire ulteriormente, ha un funzionamento realistico e soprattutto sicuro. Se siete interessati a saperne di più trovate il link in descrizione che vi porterà direttamente sul sito del Monopoly Softair, il negozio che mi sponsorizza e potrete dargli un'occhiata anche lì. Vi consiglio di farlo in modo di sostenere sia me che il canale. In descrizione trovate anche i link di Instagram sia mio che del canale, veniteci a seguire perché pubblichiamo una marea di contenuto e soprattutto potete sapere in anticipo un po' quali sono i contenuti che usciranno sul canale e anche decidere cosa esce e cosa non esce. Vi consiglio di farlo anche in luce di eventi che stanno arrivando. Io vi ringrazio per essere stati qui con me in questo bellissimo mercoledì, noi ci vediamo sabato con un nuovo incredibile video e stay angry! Ciao! Ciao! Grazie a tutti